incredibile è già passato più di un mese Emily all'improvviso è sparita nessuno sa perché molti hanno perso le speranze dopo qualche settimana hanno smesso di cercarla ma io non mi arrendo devo trovarla per forza ehi, Sally cerchi ancora tua cucina? che schiacciuglia a te? no, 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 no oh no, la bici è andata come faccio ora? è rotta ora come ci torno a casa? potrebbe servirmi bene non puoi nascondere non puoi nascondere spero sia ancora aperta spero sia ancora aperta ehi, spussa la pinta avanti ora ora farai anche tu Sì, sì. Penso che nessuno usi più questa strada. Sì, sì. 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 Sì, puoi salire, ma fai il biglietto. Non posso solo farmi entrare. È importante, ragazzina. Non si parte senza biglietto. Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. Sì, sì. Grazie a tutti. 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 Ma che... Un terremoto... Quella è... Emily? È sempre stata... Nascosta a scuola. Non capisco... Emily si nasconde a scuola da... Più di un mese... Più di un mese... Chiusa, ovviamente. E ora? Il bidello dovrebbe... Chiusa. Mi serve la... La chiave del bidello. Chiave del bidello. No... No... No, no, no. No, no, no. Che... cos'è quello? Ci sono ancora quei mostri. Devo stargli alla larga. Che... cos'è quello? Che... cos'è quello? Ma che sta succedendo qui? È un altro libro strano. Emily? Hmm... Ti vediamo. No, no. Perché questa città è così orgogliosa del... la sua miniera. Niente. No. 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 Grazie a tutti. 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 Questi mostri sono ovunque. Che cosa sono? Cosa vogliono? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mi tornerà utile. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Emily. Grazie. E' chiusa dall'altra parte. Emily! E' un irrigatore che perde. Ma... Ottimo! E se restassi nascosta qui? Ma questa... Questa è la mia vecchia torcia. L'ho data a Emily tanto tempo fa. Funziona! Mi servirà. La torcia ha bruciato il suo occhio. Potrebbe funzionare anche con gli altri. Potrebbe servirmi. Non la trovo. È un altro libro strano. Dovrei esserci abituata. Tu hai qualcosa di più... Sì, sì, sì. Emily! È al piano di sopra, ma... come ci arrivo? Chi lo trova, se lo tiene. Quel mostro era enorme. Spero non mi abbia visto. E vai! Chi lo trova, mi abbia visto? Chi lo trova. Chi lo trova. Chi lo trova, se lo trova. Grazie. Ce l'ho fatta. Ma Emily è ancora dentro. Ora che faccio? Se salgo fino alla finestra il mostro non mi vedrà.